Mi verrebbe da dire che rispetto prima, quando pensavamo alla povertà educativa, pensavamo ai bambini, ai ragazzi, diciamo ai destinatari delle azioni educative. Adesso se penso alla povertà educativa, penso alla povertà come mancanza di qualcosa. Mi sembra che in questo momento tutti quanti manchiamo di qualcosa dal punto di vista educativo. La scuola, per un verso, i genitori a loro volta hanno scoperto la mancanza di una capacità di essere educatori dei propri figli o per contro magari di poterlo essere meglio di quanto non pensavano. I bambini hanno scoperto la possibilità di colmare dei vuoti educativi con delle cose diverse da quelle tradizionali che normalmente noi deleghiamo per esempio alla scuola. Per certi versi sono emerse più mancanze, per certi versi sono emerse anche tante opportunità. Il progetto ha dato, secondo me, delle occasioni a chi gestisce questi spazi educativi di essere una risorsa rispetto a quelli che sono i luoghi tradizionali, per esempio la scuola piuttosto per la famiglia dell'educare. Quindi la possibilità di creare spazi all'aperto, la scoperta del territorio, la creatività anche nel fare delle proposte che fossero sostenibili diciamo agli uomini tradizionali. A me è sembrata una cosa che ha messo in gioco dei pensieri e delle proposte diverse, nuove, interessanti, sia per i bambini che penso anche per le famiglie in questo momento, dove c'è una grande fame di possibilità, di luoghi, di spazi dove i bambini possano avere delle esperienze che in questo oggi sono state negate per lungo tempo, diciamo, quest'inverno, questa primavera. Credo molto nelle persone, credo molto soprattutto nei ragazzi. La capacità di tenuta e di resistere a queste chiusure, a questo affanno, a questa mancanza di ossigeno del lockdown che hanno manifestato, secondo me dovrebbe esserci proprio di insegnamento. Sono stati i primi i bambini e i ragazzi a essere capaci di stare alle regole, per quale motivo non dovrebbero riuscire ad adattarsi a delle situazioni nuove, diverse, un domani. Penso che faremo più fatica noi adulti, sinceramente. Grazie a tutti.